I sindaci riuniti tutti attraverso il direttivo che ho l'onore di rappresentare chiedono assolutamente di modificare e rimuovere in modo importante la cosiddetta norma antisindaci, norma del 2004 che oggi prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei sindaci prevedendo anche dei tempi e dei termini molto stringenti perché lunghi in termini di previsione per la rimozione delle cause di ineleggibilità. Ringrazio il Presidente Annuntis per l'audizione che comunque mi ha consentito e ci ha consentito di rappresentare tanto alcuni punti comuni, con questa modifica si rivede in modo incisivo il rapporto tra il Consiglio, quindi l'istituzione del Consiglio regionale, il rapporto con le comunità e con i territori e quindi è necessario che ci siano tempi non stretti, che non sia strozzato il dibattito e l'apertura al confronto che tenga conto anche delle diverse posizioni. Un altro tema su cui c'è una preoccupazione comune è quella relativa alla rappresentanza e quindi anche alla rappresentatività dei territori in merito alla modifica del collegio che come sappiamo con la proposta di modifica diventa collegio unico. È fondamentale assolutamente evitare che alcuni territori possano essere sottorappresentati e pensiamo in particolare a quelli delle aree interne, comuni o ai territori di minori dimensioni che rischierebbero appunto di non avere una rappresentanza e quindi rappresentatività all'interno del Consiglio. La circoscrizione unica, il collegio unico peraltro pone un tema che è quello dei costi della campagna elettorale che ovviamente diventa più onerosa e rischia di creare in capo a chi voglia partecipare un limite, un ostacolo e quindi ad alterare le pari opportunità nell'accesso ovviamente alla carica di Consigliere regionale.